Ancora un attacco all'amministrazione di Premosello dall'opposizione consigliare, rappresentata dalla civica, Colloro, Premosello, Cuzzago. Oggetto della contestazione è ancora una volta la casa di riposo, ed un ricorso mosso alla procura della Repubblica di Verbania dai parenti di un ospite per il risarcimento di danni presunti, in conseguenza del ricovero del congiunto in RIS dal 28 febbraio del 2022 al 16 marzo dello stesso anno. Autosalone tedeschi, concessionari a Suzuki per il VCO, a piedi mulera.